Siamo arrivati in questo video, oggi siamo qui in questo nuovo episodio di uno spacchettamento di cod Ragazzi, vi voglio ringraziare, colgo questa occasione per ringraziarvi dei 1055 iscritti raggiunti, credo superati Davvero da parecchio tempo che non crescevamo un po' E vi ringrazio sempre per il vostro supporto che mi date Ed oggi andiamo a fare questo cesto opening da 10 euro, signori, vai Vai, questo qui è andato neanche una chiavica Vai, perfetto, vai, sì, vai, che le criptochiavi Perfetto, madonna Cioè, perfetto, mamma mia, troppo emozionante ragazzi Stupendo E non evito il cazzo, eh Eh, quando è l'Argus, quando si tratta di Argus Anche se non troviamo niente, sono felice ragazzi, proprio Porca puttana, mi sono preso un infarto, porca puttana Porca puttana, mi sto prendendo degli infarti stupendi Cioè, se trovo qualcosa all'ultimo Voglio, voglio, voglio sfruttare come pazzo Cos'è? Oh sì, di te, è tua madre Allora, teniamo Eh sì, dai Vai, 67 Ora facciamo Vai Ci siamo Trasgressione, vesper, porca puttana Ma che miseria Tua sorella ti si fa valere? Sì, ma dai, c'è un corpo di là Sì, ma che mi importa? Vabbè, vai Un comune Un comune Vai E vai, vai E vai, tutto sorrendendo Sul pannello Vabbè, raga Non è andata neanche una schichezza Cioè, non è Un'arma Cazzo Quelli da 10 sono sempre così Però Porca puttana Non ha fatto prendere degli infarti stupendi Con questa Però Dai Diamo dei corpi Delle teste belle Diamo delle cose un po' belle Vabbè, raga Non posso lamentarmi Ma per questo Passa proprio così Questa qui, va bene Passa proprio molto bello Che se il drago Più bello Poi Che c'ho più? Orun Orun Vai Salto rovinoso Che questo me la metto Poi Che ci mettiamo più? Che cazzo Perfetto C'era per il firebreak La cosa però Come avete potuto Frattura Frattura La nuova modalità di pod Che non ho ancora provato Quindi È da parecchio E non c'è nuova playstation Quindi Quando ho visto frattura Ho detto Che cazzo Ok Next Tra l'altro C'è Le mie classi Sto vengono Ok Il Garand C'è il culo Guardate Due armi Tra l'altro Nel comune Il Garand C'è dai Domani in minimo Trovo qualcosa Perché Il gioco Manda dei segnali Non so se lo sapevate Che quando voi Shoppate Il gioco Vi conosce G-shop E vi premierà Sicuramente Nel caso Per questo Spacchettamento è tutto Vi ringrazio Dei tantissimi Iscritti Che ci sono 1055 E' proprio tantissimi Essimi Non Però I minimized Lo stesso Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Grazie!